Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oh, non ho acceso la luce, non ho acceso la luce, vedete, fa le cose a cazzo di cane, tac, ecco fatto, eccoci qua. Luce diurna, noi ci spariamo, ah, così, va bene così. Ciao ragazzi, ciao ciao, bentornati. Vedo che vi ha un po' preso sta intro, vi è piaciuta. Grazie Will9x per esserti attaccato al cognome. Cioè, ringraziamo coloro che hanno osato iscriversi mentre eravamo offline, che sono nessuno, nessuno. Vabbè, e lo fanno, non c'è nessuno da ringraziare. Ringrazio a caso un Cova18 e un Detoma88. Vabbè, lo fa. Ah, perché ho fatto l'ultima live, ero su YouTube, è vero, è vero. Ero su YouTube. Visto la pubblicità che ha fatto, hai visto la pubblicità che ha fatto Marcello. Allora, oggi è un po' così, oggi è leggero, il giovedì è leggero, giovedì pomeriggio. Ricordo che stasera c'è un'intervista a Cristian, il co-founder e CEO di Fantasia Store. E più tardi, fra un'oretta, arriva Tommy per fare il tablerone senza gag del giovedì. Classico tablerone. Dalla prossima settimana, grazie, Natalino, quattordici mesi, no, eh. Dalla prossima settimana il tablerone passa al primo slot pomeridiano, quindi a quest'ora. Alle quattro, tablerone, e poi alle cinque, resto da solo. Ben rip trovato. Mike Bistrong, grande Mike. Grande Mike. Allora, che si fa quest'oretta, mentre aspettiamo Tommy che sta ultimando il tablerone. Volevo un Q&A, se avete domande fate nel momento giusto. Ho delle domande salvate a cui voglio rispondere, eventualmente. Grande Stefano Fassina, 23 mesi. Penso che sia il più long term subscriber, con 23 mesi, eroe. Ho qualche domanda, vediamo un po', salvata, se non ne avete voi. Se non rispondo a domande che ho ricevuto interessanti e che mi sono segnato. Così, e poi forse vuoi fare una piccola reaction a una roba. Grazie, Jumbo21. Grazie, Jumbo21. Per gli amici, per gli amici Bill, seguirti in sottofondo mentre lavoro, aumenta produttività e income sul lungo periodo? Non credo, non credo, non è detto. Come vedi l'andamento del a medio periodo? Ragazzi, domande che hanno senso, eh? Ah, Natalino solleva un problema. Un problema, sensato. Andiamo a lasciare anche i precedenti. Mark Help, ciao Rip, sono al terzo anno di Ingegneria Informatica. Mi sono accorto di non essere un buon programmatore. Per quanto riesco a trovare soluzioni, a problemi non riesco ad impegnarmi nel codice. Ma il consiglio su come migliorarmi? Scrivi un codice, fai un po' più di... Non pensare al codice basta, ma pensa al progetto che vuoi realizzare. Fai un piccolo progettino, dati un obiettivo a livello di product, e poi dopo il codice sarà più facile scriverlo, più bello. Non so che tipo di codice stai scrivendo, su che framework, su che linguaggio, che tipologia... I problemi vuoi affrontare. Però quando non sai che fare vai su low level, vai su memory management, vai su C++ e passa la paura. Erga223, ma mi sembra di capire dall'ultimo video che ti dedicherai 100% a fare lo youtuber. No, mi dedico 100% all'attività della Retire in Progress GmbA, che sono tante, che sono non soltanto fare lo youtuber. Poi che significa fare lo youtuber? Il mio obiettivo non è solo fare video da pubblicare su YouTube. Il mio obiettivo è scrivere un libro, scrivere e produrre un corso di personal finance, anche seguire persone e pensare anche a nuove ipotesi di prodotti da produrre. Sto facendo azienda. Il contenuto è al momento quello che la mia mission ha mostrato. Quindi c'è un video in cui spiego qual è il motivo per cui sono online. Recupererò grazie ai gamberone. Quindi fare lo youtuber è un po' non significa nulla. Secondo me dovresti parlare come parli in live quando fai i video. Una cosa più impostata potrebbe sembrare un fuffaguru. Ok, ok può darsi. Però se voglio comunicare messaggi in cinque minuti, se li faccio come sono in live, con le pause, con i rutti, con mi fermo e bevo, non è molto rispettoso. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Montatore. Rip. Oggi è vero che c'è una bellissima atmosfera. Dai, voglio video apprezzatissimi. Quale keyboard shortcut usi per frizzare le rose nel net worth? CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Questo è un contenutone. Grazie a GlowOne. Grazie. A Chiaori, Gianni Sperti, 95. Ciao Rip. Se i rendimenti dei bond dovessero aumentare ancora, quando toglieresti tutte le stocks? Tutte le stocks? Domanda interessante. Se i rendimenti... Grazie Heisenberg, ufficio al 98. De Peru chiede... No, aspetta. Dove sta? Gianni Sperti chiede... Ciao Rip. Se i rendimenti dei bond dovessero aumentare ancora, quando toglieresti tutte le stocks? Tutte le stocks penso mai. Perché? Perché comunque le stocks scontano il fatto che esistono bond e esistono a quel rendimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se i bond adessero il 50%, le stocks probabilmente raggiungerebbero un prezzo di equilibrio tale che il rendimento atteso è almeno il 50%. Quindi non è che a un certo punto le stocks adano solo il 5% atteso. Se c'è un risk free che dà un rendimento garantito più alto, le stocks raggiungerebbero un punto di equilibrio di prezzo, tale che il loro rendimento atteso sarebbe più alto comunque di quello risk free. L'unica cosa che potrebbe succedere che renderebbe il rendimento atteso più basso di quello risk free è se cambiasse la nostra generica e diventassimo tutti quanti molto più gambler e risk prone invece di risk averse. Quindi se il avere più volatilità diventasse una figata, che bello, sono disposto anche a prendere meno rendimento a fronte di più volatilità. Ma questo qui la natura umana non lo è, poi via. Certo è, quindi a livello di rendimento atteso le stocks avranno sempre un edge rispetto ai bond perché c'è dell'imprevedibilità e l'uomo vuole essere pagato per quello. Però, se i bond adessero il 20%, uno potrebbe dire con i miei soldi, con un rendimento molto alto dei bond, starei a posto. Però quali sono le circostanze che portano i bond ad aumentare ancora il rendimento? Sono quelle per cui aumentano i tassi di interesse delle banche centrali. Questo in genere ha una certa correlazione con l'inflazione. Cioè quando mio padre aveva la mia età investiva in bot, che davano anche il 15% in lire, ma le lire si deprezzavano al 20%. Quindi, se ci fossero circostanze in cui i tassi di rendimento delle obbligazioni sono alti e molto più alti dell'inflazione attuale e attesa successiva, allora forse sì, tutti sposteremo tutto in bond. Sarebbe una situazione che non avrebbe senso. Quindi non c'è una circostanza in cui questa roba può funzionare. Spero di averti risposto. Clip! Allora, devo dire che il pranzo indiano nella sede di Google Azurico è top. Quale ristorante? Il pranzo indiano quale ristorante era? Ci sono vari... Era in Fork? O in Big Bang? Come stanno andando questi primi giorni in ufficio? Riesce a fare deep work? Chiede Perù? No. La scorsa settimana... Insomma, le ultime... La prima settimana che sono in ufficio ho montato l'ufficio. Quindi no. La seconda settimana sì. La settimana scorsa un po' di meno. Un po' di meno. Questa settimana zero. Ma va bene così. Va bene così. Riprenderò il ritmo giusto. Ci sono state circostanze. Oggi ho fatto quattro ore stamattina. Sto facendo incontri interessanti. Negli ultimi giorni ho incontrato qualche CEO di qualche azienda. Qualche content creator grosso in cui vuole fare collaborazioni. Sto facendo... Purtroppo sono troppi ruoli. Ho troppi ruoli. Il tempo non c'è. Faccio troppe cose. Ovviamente l'obiettivo è... Settembre è ancora la stabilizzazione. Da ottobre le mattine saranno sacre. Sacre. Non importa se mi chiama Gesù Cristo. Ma la mattina sarà deep work. Mike Bistrong. Ma se avessi 100k come investiresti? Che vuol dire? Ce l'ho 100k. C'è un po' di più. Giocatore impavido. Rip. Io non ne capisco nulla di finanza. Ma sono un ottimo risparmiatore. Secondo te l'acquisto di una casa, soprattutto ora che i tassi del mutuo sono alle stelle, è un suicidio economico? No. Se non capisci niente di finanza, la casa è un buon investimento. Nel senso, l'immobiliare non è un ottimo investimento se non sai come farlo molto bene. Se non sei nel settore o se sei molto appassionato e quindi stai studiando i vari mercati immobiliari, non è di base un investimento con rendimenti molto alti. In generale, poi sono ovviamente delle nicchie piccole, ma non le vai a scoprire tu. E non è un investimento passivo, perché devi mantenere. Devi stare lì, devi avere un inquilino. È un investimento piuttosto attivo, con anche costi fissi, tasse, rottura di coglioni. Però non è un ottimo investimento, ma è meglio del cash. Quindi se il tuo costo opportunità è basso, perché tu l'alternativa è tenere soldi sotto il materasso, fai bene a comprare immobili. Se invece sei un investitore un po' più smart, che sa investire sui mercati, dipende. Ok, vengo un po' più in real time. Gamberone, l'ho ringraziato già. Quante domande. Ivan Burnout. Mi piacerebbe sapere di più come mai non ti entusiasma la tecnologia blockchain, non dal punto di vista finanziario, ma tecnologico. Ivan Burnout. Mi piacerebbe sapere di più come mai non ti entusiasma la tecnologia blockchain, non dal punto di vista finanziario, ma tecnologico. Beh, dal punto di vista tecnologico, la tecnologia blockchain non è nulla... Cioè, cosa è di affascinante? Un conto economico dice che non ti entusiasma la VR, non ti entusiasma il machine learning, non ti entusiasma la human brain interface, di network link. Quelle cose che mi entusiasmano. La blockchain, alla fine, è una roba che esiste da 50 anni, se vogliamo. I concetti di hashing che stanno alla base e anche qualche piccolo esperimento fatto esistono da tantissimo tempo. Non è che ci abbiamo mai fatto un granché come umanità. Ok, il hashing è interessante come concetto, lo usiamo tutti i giorni per fare qualunque look-up table più veloce di un database. Qualunque database l'accesso costante ce l'hai perché fai hashing delle chi, ok, è interessante. Quindi per sé la blockchain è un database brutto, up and only, in cui il blocco N è linkato al precedente perché c'è un hashing dietro. l'utilizzo, questa tecnologia blockchain. Se parliamo poi di consensus, se parliamo di blockchain come cripto roba, entriamo nel mondo anche di consensus e di avere un token sopra a cui attribuiamo un valore per qualche motivo. la parte di consensus è interessante, ok, ammetto che il proof of work quando è nato mi sembrava bella trovata, poi però dopo dico che problema deve risolvere, che problema stiamo risolvendo. Abbiamo un problema? Cioè al momento c'è un problema da risolvere? Non mi sembra. Non mi sembra che, come dire, se facessi una startup, non farei una startup per risolvere il problema delle banche che sono brutte. Eh sì, sono brutte le banche, però non vedo un grande problema, non stiamo risolvendo un problema fondamentale. La soluzione proposta non è neanche un granché, nel senso che, eh, poi c'è molte evoluzioni, altre cose interessanti, lato consensus, lato block space, però per il resto non era un grande problema, la soluzione blockchain non mi sembra una grande soluzione, tecnologicamente alcune cose sono vecchissime, alcuni aspetti di criptografia sono interessanti, ma in altri ambiti non vedo un grande, non vedo, non vedo roba, non vedo, non sento l'Africa, René. Non sento l'Africa. Hello? Oh no, ditemi che non siete arrivati in blocco, i criptini. Hello? Hello? Cerbero Podcast? Ah, ecco chi sono arrivati, i cerberini, grande! Grande, 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 ragazzi. Si sta facendo un... Si sta facendo un po' un... Come si dice? Si sta facendo un po' di Q&A, un po' di Q&A. Se solo avessi degli alert, in realtà gli alert con una L c'è l'IOM, sul ride non c'è, questo devo dirlo a Matt. Matt, montatore, montatore casellante, serve un alert su ride? Cioè, non possiamo non avere un alert su ride. Quindi domande sono benvenute, in ambito finanza, tech, personali, il cazzo che volete. Ciao Rip, pensi Jumbo21. Ciao Rip, pensi che le nuove AI possano servire a fare ricerche più facili all'interno di un database aziendale. Quindi non serve strutturare le cartelle in un certo modo, umanamente sensato, perché ci pensa le AI e cercare il posto tuo. Bella domanda... Beh, questa è bella, questa cosa devi farla vent'anni fa, era carina, adesso è una domandina un po' simpatica. Ripeto, Jumbo21 dice Ciao Rip, pensi che le nuove AI possano aiutare a fare ricerche più facili all'interno di un database aziendale? E quindi non serve più strutturare le cartelle in un certo modo. Non serviva già strutturare le cartelle in un certo modo. Cioè è buono, è una buona pratica, io la faccio comunque, ma per fare ricerche già a qualunque sistema di indexing vario, Google. Google, prima delle AI, prima che utilizzasse AI, già Google faceva indexing di tutto l'universo e quando fai le ricerche in pochi millisecondi di dare risultati. Quindi in teoria già esisteva. Si chiamano indexing. Quindi prendi gli articoli, crea un indice, fai delle tabelle un po' più veloci, magari organizzate a tree, tree, quindi a prefix tree, così quando cominci a digitare ti dà già i suggestion giusti. Già esisteva. Le AI migliorerà? Non lo so, perché tu nella ricerca di dati aziendali vuoi reliability completa e non vuoi la supercazzola. Le AI 9 su 10 sono giuste, 1 su 10 è supercazzola e non ti fa impazzire. Quindi non lo so se le AI aumenterà sta roba qua. Spero di no. Spero che facciamo già senza. Facciamo già senza. Non possiamo scrivere in chat perché c'è il timer di 10 minuti così tanto? No, davvero. Abbiamo un timer... Vediamo un po'. C'è qualche chat setting. C'è uno slow mode. Vediamo un po'. Lo levo perché non c'ho... Voglio vedere il casino. C'è uno slow mode. Slow mode off. No, non c'è nessun timer. Ah, forse c'è il timer per i nuovi iscritti. Ah, è vero. Abbassiamolo, abbassiamolo. È brutto, è brutto sta roba qua. Grazie Aristocle, eroe. Grazie Aristocle. No, 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 da qui non ce la faccio. Da qui non lo so. Non lo so. Vabbè, arriverà. Ah, no, ma scusate che vado più in real time, per cui qualche domanda me la so persa. Ogni tanto ragazzi, qui siete autorizzati ogni tanto a ripostare la stessa domanda perché non riesco a seguirvi tutti quanti. Per cui adesso... Mi chiedete se ho il casting couch? Se ho il casting couch. Beviamo un attimo... Tac. Grazie Inge Perry. Non è un casting couch. Però diciamo che l'ho usato per lo stesso motivo. Mi piace la chat qui, mi piace la chat qui. Grazie Abacos96. Non è un casting couch, ma rivediamolo perché è bello. Rivediamolo perché è bello. E la storia è divertente, ma neanche troppo. È una storia banale. È una storia sempliciotta. Niente, volevo comprare un divano, un divano letto. Questo non è un divano letto, è un divano. Volevo comprare un divano per lo studio, però nessuno mi convinceva. Su Ikea costavano troppo. Ipedia in Ikea non mi piacciono. Ikea mi piace tantissimo, mezza casa Ikea. I divani non mi piacciono. Ho visto altri, Mikasa, Fister, altre piattaforme svizzere non mi piacevano. E cosa ho fatto? Ho detto, boh, andiamo su... Mia moglie dice, vedi su Riccardo, riccardo.ch è l'eBay svizzero. Ho visto su Riccardo, c'era qualche monnezza. Vedi su Facebook Marketplace. Ho visto lì, ho trovato un tizio. un tizio, che non voglio sapere cosa ci ha fatto, però era un tibetano, un tibetano, un tibetano umile. In una piazzola di un tibetano l'ho incontrato. E 80 franchi. Oh, è pelle. È bello. A me piace, è comodo. Matto ci ha dormito una settimana qua sopra. Andiamo qua. Guarda, è detto così. È bello, è pelle. Credo che sia pelle. È un metro e ottanta. Si inclina pure. Si inclina. È reclinabile. Cazzo vuoi di più? Io mi piace. Il tavolo di un tibetano. Un piatto di... Quindi il tibetano chissà che ci ha fatto. Fister. No, Fister è con la PF. Fister. Non è Liccardo. È Riccardo. Riccardo con C sola. Non è Liccardo. Sarebbe figo il Dory come ai vecchi tempi. Ma già lo usavate male quando eravate in pochi. Oggi sarebbe un casino. Piega dice. Piega. Ti ho visto l'altro giorno ad Albi Sridan. Non entro nei dettagli ovviamente. Se ti vedo posso mi salutare? Sì. Mi fa piacere. Qui a Zurigo mi incontro una volta a settimana qualcuno che mi conosce. Mi fa sempre piacere. Quindi piega. Se mi vedi saluta. Ma tu sei mister Rippio? Sì. Sono proprio io. Vai dove è andato anche il ragazzo. Mi piace che sia ambiguo. Che sia un po' quel famoso divano. Un tibetano del Burmini. Non gli ho chiesto se era laico. È che tutti si chiamano... Io conosco tre persone del Tibet. Si chiamano tutti quanti come il Dalai Lama. Si chiamano. Per cui tutti quanti ha lo stesso nome. Quindi il nome è facile da scoprire. Devil Kurt. È un pensiero che mi è nato pensando al perché accettasti di lavorare da Google se da freelance guadagnavi comunque molto bene. Pensavi all'eventualità di incontrare qualcuno o un curatore o qualche progetto? E collegandomi a questo. Lavorare da dipendente ti è sempre pesato o è una cosa sviluppata nel tempo? Bella domanda. Molto personale. Devil Kurt. Ma gran bella domanda. Guardate quando una volta dicevo sempre bella domanda. Bella domanda. Ripeto la domanda. Per Clip. David Kurt chiede. È un pensiero che mi è nato pensando al perché accettasti di lavorare da Google se da freelance guadagnavi comunque molto bene. Pensavi già all'eventualità di incontrare qualcuno con cui creare qualche progetto? E collegandomi a questa domanda, lavorare da dipendente ti è sempre pesato o è una cosa sviluppata nel tempo? Allora. Allora. Da freelance guadagnavo bel. Prima di Google ho lavorato per due anni in partita IVA, regime agevolato. A suo tempo era meno agevolato di quello che c'era oggi. Ma ero un barbone di Dio. Vivivo con 500 euro e ne guadagnavo 4.000 al mese. Ero 4.000 da un cliente e altri 1.000, diciamo per tutte le tasse, 3.500 netti al mese. e spendevo zero. Ero super ricco. I tempi, gli ultimi tempi di Pioltello. Quella Pioltello, il declino del Pioltello che è in me. Ero però molto, mi piaceva molto, stavo bene, ero contento. E mi dicevo, non voglio mai più lavorare per un capo. Preferisco avere 3-4 aziende con cui collaboro, da cui sono distaccato, da cui io sono non vostro dipendente. Se mi fate rotere il culo me ne vado e lavoro con le altre. Piuttosto che lavorare come dipendente da qualche parte. Venivo da tre anni e mezzo in Milestone, più anche il dottorato di ricerca, il postdoc. Il postdoc no, non ho finito il dottorato. La ricerca, l'assegna di ricerca, il dottorato interrotto, era troppo da dipendente. E mi sono detto, sto bene così, tutto il resto della vita non tornerò mai più a fare il dipendente. Quindi mi piaceva. La domanda è, quando sei andato a lavorare in Google, visto che ti piaceva essere indipendente, essere un tossico indipendente, perché hai accettato? Beh, è ovvio che ogni cosa ha un suo prezzo che è brutta come frase. Però se io dico, ma no, a me l'acqua in bottiglia non piace. Eccoti un milione per bere acqua in bottiglia. Dicevi? Quindi, Google era Google. Cioè, Google era il mio sogno già dieci anni prima. Io, però, da 2004, quando ancora, non so, ma cosa era pubblica? Forse era già pubblica. Io Google era il mio sogno, era il posto in cui si narravano le gente, che era il posto più bello dove lavorare. Quindi Google era Google. Non voglio più fare il dipendente, però c'erano ancora un insieme di una dozzina di società, forse anche di più. Forse ho anche mandato alcuni curriculum mirati, tipo a Bethesda. Qualche gaming company top, 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 che io amavo, tipo Valve o Bethesda o Crytek a suo tempo. Poi, ovviamente, tutte le big tech californiane. Non so, alcune aziende avevano, ovviamente, uno status tale da farmi superare il... No, voglio lavorare l'indipendente. Non è che sono andato lì nella speranza di incontrare qualcuno con cui fare un progetto, però sapevo che sarebbe stato un positivo side effect. Vado lì, capisco come funziona il mondo, faccio un'esperienza internazionale e magari incontro gente super in gamba che mi fa crescere in azienda o magari incontro qualcuno super in gamba con cui lanciare un progetto. Era parte del paniere. Ok? Quindi non era per il motivo principale. Domanda collegata. Mi è sempre pesato lavorare da dipendente? Sì, sì. Sì, però non sono di quelli che vi va a dire come tanti fuffaroletti piccoli. Ah, siete schiavi. Si può essere dipendenti e essere molto... Come dire? Ho appena incontrato una persona che da dipendente guadagna più del 99% dei fuffaroletti. Alto dirigente, è contento e così via. La via del dipendente, se è un vestito che ti sai vestire, è molto più facile, è molto più tranquilla della via dell'indipendente. Io sto faticando tantissimo, sto lavorando tantissimo, però mi piace di più. A volte mi dico chi cazzo me lo fa fare a lavorare sempre. Io ieri sera a mezzanotte stavo in call con qualcuno, però mi piace di più. I due anni da freelance mi sono piaciuti molto di più e mi piace di più anche non necessariamente il essere, avere un'azienda mia, ma anche solo lavorare come... ero R&D consultant. Mi piace lavorare come consulente strategico per altre aziende per un periodo breve, magari, e poi dopo cambiare. Quello mi piaceva, sempre da indipendente, non con le aziende di consultant, dove hai due capi e non uno. Quindi via, sì. Penso che non sono fatto per essere un dipendente. Però ho sempre sognato a fare il professore, quindi io penso che farei volentieri il professore universitario, o anche il professore delle superiori. Non è un ruolo da indipendente, ma un ruolo da dipendente, ma con zero... zero gerarchia... no, c'è gerarchia, ma zero micromanagement, microcontrollo su quello che sto facendo. Cioè, un professore può gestirsi la sua attività con una certa libertà. Non hai il capo che ti dice, ha questa scadenza fra tre giorni. Credo. Ok. Belle domande, ma devo venire un po' più real time. Qualche follow up a questa cosa? Qualche follow up? Non ti conosco bene perché non ti seguo spesso. Ogni volta che vengo in live trovo sempre le stesse domande. Eh, che c'è, mannaggia, Mr. Pezzetta. Le domande le trovi, ma sono ancora quelle che io non rispondo a quelle stesse. Non rispondo. Le big tipo Ubisoft non ti attiravano? Le big di gaming mi attiravano quelle che facevano giochi che a me piacevano. Devo essere big e fare giochi che mi piacciono. Oppure giochi i cui aspetti mi piacevano. Ad esempio Crytek sviluppava il CryEngine. I giochi che faceva Crytek, tipo Crysis, o ce n'era un altro, non ricordo, non mi facevano impazzire. Però il CryEngine era il top del suo settore. Quindi Crytek mi piaceva. Bethesda, adoravo i suoi giochi. Adoravo tutti gli Elder Scrolls, fino a Oblivion, quando sono vecchio. Tipo Electronic Arts non mi faceva impazzire l'idea. Questo qui. Ubisoft non era un grande fan dei loro giochi, per cui no. Memento Dark. Ah, do priorità a chi ha speso punti canale per fare highlight del messaggio. Il CatDev. Il CatDev. Ciao Rip, quanto a sé, quando ha senso passare da ETF ad accumulo a distribuzione, ad usare i dividendi come income? Quanto dovrebbe essere grande il portafoglio? Per quanto riguarda la domanda sulla blockchain, ah, era una trappola. Ah, la prima domanda era una trappola, era per portarmi lì. Hai speso punti canale, hai fatto domande interessanti ma ma malposte, e poi mi hai fatto la domanda trappola. Per quanto riguarda la blockchain, comunque sta aiutando ad approfondire molti temi come la Zero Knowledge, Wallet Deterministici, Self-Soverine Identity, che è molto alto. Sicuramente alcune di queste sono ancora acerbe per la mass adoption. Esatto. Esatto. Memento Dark. Io sono un dipendente da tre mesi in un'azienda. Il mio superiore è andato un mese in ferie ed ha lasciato le redini a me piuttosto che colleghi che lavorano da lì da trent'anni. Nelle mie esperienze lavorative ho imparato che il dipendente è più uno status mentale che si rispecchia poi nella tua realtà. Ok. Ok. Stai flexando che ti ha dato più responsabilità a te. Aspetta, è un po' presto per parlare. Un po' presto per parlare. Potremmo dire avrai anche tu le due docce fredde, avrai anche tu il tuo cavolo pensavo di essere importante e mai sei rimpiazzabile facilmente. Aspetta, aspetta, poi tra qualche anno potrei fare una testimonianza più argomentata e più forte. Sta cosa che non è giocato a Skyrim è un problema però, eh? Tocca rimediare. Ciao Rip, non so se ne hai già parlato o ne parlerai mai nel tablerone. Cosa ne pensi del casino drama con Unity? Del casino drama con Unity. Credo che ne abbiamo parlato nello scorso tablerone. Sai che non ricordo? Sai che non ricordo? Beh, credo che non è bello. Credo che non è bello. Non ho seguito le ultime vicende. Non ho seguito le ultime vicende. So che hanno fatto il loro... Hanno raddoppiato i prezzi per download. Non so se era il tablerone o stavo parlandone con qualcuno privatamente. Non ricordo. Forse era il tablerone con Tommy la volta scorsa? Beh... Ogni volta che un'azienda fa acquisition selvaggia con condizioni vantaggiose, poi raggiunto lo status di monopolista, raddoppia i prezzi o fa cose del genere, a me non piace. Mi fa proprio calare. È un po' come il tuo partner che è sempre fedele a parole, e poi a un certo momento lo incontri e vedi e fai una gangbang con 57 persone nerborute. Cioè, ma come? Però per i primi vent'anni è stato fedele. Eh, ma sti cazzi! Se al ventunesimo anno ti fai insifonata una cinquantina di... Eh, no, non va bene lo stesso. Quindi consulenza con... Non piace. L'hanno fatto parecchie aziende. Cioè, se il tuo business plan non è sostenibile all'inizio, non fa... Cioè, poi, ovviamente a loro conviene fare client acquisition selvaggia, monopolio, e poi daie di aumento prezzi. Oppure daie di exit. Una volta il meta era diverso. Una volta il meta era... Io ho startup tech, voglio più clienti possibili, ma sto in perdita come la merda, e faccio l'exit in quel momento. Non ho mai visto un... Ho solo distrutto soldi, tipo Uber, tipo Tesla, vabbè, Tesla è un po' a parte, ma Uber era così. C'era un'epoca in cui tutte le startup grosse alla Uber acquisivano clienti a debito, e poi dopo cercavano di fare l'exit. Non sono mai stato un grande fan di questa strategia. Come consumatore? Come investitore? No. Come consumatore peggio, perché... Ok, so che le condizioni saranno vantaggiose, finché non vi si appiattirà la curva di crescita, e lì andrete a spremere. Questo anche Google lo sta facendo. Google lato cloud sta facendo così. Grande Google 22. Google lato cloud comincia a dirti... Eh, 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 dopo questi terabyte, dopo questi gigabyte paghi, poi questa roba qui lo paghi... eh, non piace, non piace. Boh. Vogliamo l'opinione della moglie? Ti appoggia in tutte le tue iniziative? Assolutamente sì. Will 9x. Will 9x. Vogliamo l'opinione della moglie? Ti appoggia in tutte le tue iniziative? Assolutamente sì. È ovvio che è una negoziazione non facilissima, in quanto comunque anche la famiglia richiede tanto, e io quindi sono diviso tra lavoro e famiglia, sto dedicando il 150% al lavoro e famiglia, e resta molto poco per sonno, board games, c'ho un cazzo di tempo per giocarci, sport, ho delle cose che sto trascurando, non sono molto in balance in questo momento. Ma mia moglie mi appoggia assolutamente. Jambo 21. Nessuna domanda, voglio solo farti vedere quanto sono ricco dei punti canale, sono lapidi independent. Eroe, eroe, eroe. Nice Dylan ha speso 500 lapidi per chiedere se informatica o ingegneria informatica. Questa live verrà ricaricata, ho 30 anni, devo investire in VWCE. Bellissime domande, bellissime domande. Si vede che sei da tanto tempo. Mi piacerebbe, Nietzsche 96, ma io non ci vedo, sono ciecato io o non ci vedo? Nietzsche 96, mi piacerebbe che lui leggessi il libro di Giusti, Portafogli per l'investitore. Non sicuro che ti piacerebbe, ti triggererebbe. Allora, il libro di Luca Giusti, Portafogli per l'investitore, l'ho forse rapidamente scannerizzato quando ho bautato i libri da comprare. Ho comprato, è arrivato finalmente questo. E questo è il prossimo che leggo. Quindi, chi è interessato, questo lo sto, l'ho iniziato a leggere ieri. Cioè, sto ancora all'inizio, eh. Libro di Marco De Pifanio, Investimenti da Guida Completa. Sembra essere, dalla Table of Content, dal poco che ho letto, un ottimo libro, quindi lo sto leggendo e potrò darvi un'opinione più argomentata. Quello di Luca Giusti era in lista, purtroppo non posso leggere 50 libri, ne leggerò 3 o 4 in ambito, quest'anno, e no, quello non ci è rientrato. Però, triggererebbe, cosa intendi? Mi piacerebbe? Curioso. Curioso. Eh, vengo un po' più real time. Ciao Rip, domanda non trappola. Cosa fai per crescere a livello tecnico? Eh, cosa intendi? Mira, mira, macio. Se poi vuoi argomentare, nello tecnico in che ambito? Eh, vengo più real time, ragazzi. Adesso flexo i miei punti canale. Fede, risparmia. Fatti poi tu te li ridai. Che poi te li ridai tu, sicuramente. Barbone. Barbone. Kira De Savior. Ciao Rip, sono un ingegnere elettronico, cazzo, mi spiace. A fine magistrale. Un po' per tanti motivi personali e non, il mio appetito lavorativo è molto basso in questo momento. E però, mentre ti stai laureando, non puoi stare già a questo livello. Devi, dovete. Vediamo Fuffaguru mode off. Dovete odiare il lavoro più tardi. Dopo i dieci anni che lo fate. Non mentre ti stai laureando, dai. O mi scrivono su Instagram, ragazzini, ho 18 anni, ma voglio lavorare con l'online, essere indipendente. Ai 18 anni devi spalare merda per dieci anni. Poi a 28, lavori con l'online. Ma adesso è presto, non ti puoi stare così. Ah, in particolare, non ho dei desideri lavorativi. E quindi questo rimanere in balia del chissà cosa, chi mi pesa parecchio. Hai qualche consiglio? È così che si fa il dottorato. Quando non sai cosa cazzo fare della vita, dottorato e procrastini altri tre anni nel dubbio. E lì ti viene proprio voglia di scappare via dall'università, per cui dottorato tutta la vita. Diciamo che il mondo dell'ingegnere elettronica non ho dati, non lo so com'è, però sul serio, se ti piace lo studio di per sé e hai settori che vuoi esplorare in ambito di ricerca, il dottorato non è male. Un piccolo consiglio per chi lavora procacciando i clienti. Sono un fotografo di matrimoni. Il fotografo di matrimoni è la professione più ricca dell'universo. Dopo i notai c'è il fotografo di matrimoni. Che ti serve? Fai due matrimoni al mese e hai vinto, sei in fire. Il fotografo di matrimoni è peggio di quello che va a fare estrazione di inchiostro per stampanti. Cioè l'inchiostro per stampanti ha un prezzo simile all'oro liquido, come prezzo. Quanto costa il chilo l'inchiostro per stampanti e robe tipo 50.000 euro al chilo costa? Eh, il fotografo di matrimoni è ugualmente miliardario, per cui che problemi hai? Devi cercare il matrimoni. Eh, che non è male, non è facile in Italia, però è facile. Siete una mafia? Calma. A bastardi. Oh, 1.500, 1.400, ma di che? Sono due foto, due foto di merda. Fate da 200 euro, non 1.500, per fare due foto del cazzo alla torta. No, però, però per dire, eh, per dire. Allora, ciao Rip, come potrei convincere moglie a mettere i nostri risparmi in obbligazione ETF per diminuire la svalutazione ed anche per iniziare a investire minore di 10k che serviranno per comprare casa a 1,5 anni? Ebbè, sicuramente vale molto la pena prendere e passare serate a discutere con la moglie distruggendo la famiglia sul come mettere 10k per un anno e mezzo in uno strumento che ti darà al 2% l'ordo. Sono 300 euro in tutto. Sono soldi. Irrilevante. Al momento, se mandassi il form per i soldi degli altri, quante possibilità ci sono di essere valutato? Bella domanda, Leonardo Vinti. Noi stiamo passando da una modalità first come first served a una un po' più l'IFO, cioè dare un po' di valore maggiore alle application più recenti. Che significa che magari uno che ha applicato sei mesi fa anche gli spreadsheet ormai sono marci, per cui diamo un po' più di peso a chi ha applicato più recentemente. Quindi ci sta e sono fatti tutti quanti ogni mese application, ma ci sta. Tutto viola deve diventare. Cosa? Ciao Giorgio, Igor Zanella, ho 25 anni, software engineer freelance. ma è tanto che non facevo delle Q&A, è un sacco di bene domande, bello, bello, da farne più spesso. Ali può diventare il venerdì Q&A due ore. Può diventare il venerdì fisso, uno sì, uno no, un Q&A di due ore, non un'oretta così veloce mentre aspettiamo la gag. Igor Zanella, ciao Giorgio, ho 25 anni, software engineer, freelancer, ma anche partner di una start-up con sede in Irlanda, grande Ferdi Guard, full remote, attualmente forfettario. Ok, tra qualche anno, grazie Francerc, una volta raggiunto il limite del forfettario, 85K Lordi, già che stai a quella lista è bene, vorrei andare via dall'Italia, quali sono i paesi, città che consiglieresti? Per ora, nelle mie idee c'è Dublino per Vibe Tass, minchia Dublino, se Dublino ti dà belle vibes vai lì, ma per me è prollanti, per me c'è un posto in cui non andare mai a Dublino proprio, e California, per il vibe, ma il costo, mamma mia, amico, hai girato un po' il mondo, Dublino e California, dove andare a vivere, non lo so, poi c'è Mordor, e wow, io andrei in Bulgaria, in Romania, in Croazia, e forse in Spagna, ma è un po' troppo gostosa, Sud Italia, cioè Dublino e California, manca solo Lussemburgo e Principato di Monaco, e sai, i posti più costosi, con gli affitti più alti, con le tasse alte, Portogallo, Portogallo, ma veramente Albania, Bulgaria e Romania sono posti fantastici, dipende se c'è famiglia, e famiglia, 25 anni, senza famiglia, o andrà in California, a fare il freelance, matto, ciao Rip, ti capita di fare spending review personale? Se sì, come la gestisce, avendo famiglia e non un investito solitario? Jambo 21, gran bella domanda, le stanno facendo tante molto belle, bravo Jambo 21, le facevo più frequentemente prima, adesso già ho poco tempo per fare data gathering, io arrivo il 30 al 31 del mese, che devo farla live sul fine mese, e vado a raccogliere tutti i dati, tempo per fare intelligence sopra, ne ho veramente poco in questo periodo, però quando facevo spending review personale, la facevo, l'ho fatta familiare con mia moglie per un po' di tempo, tipo una volta al mese, guardavamo i dati di spesa, li giudicavamo, ci davamo dei target, questo si può spostare un po', questo ci possiamo un po' allargare, lo facevamo con mia moglie, era anche un bel momento di coppia, non lo stiamo più facendo, lei me lo sta chiedendo, vorrei un attimo vedere dove stiamo messi, in realtà lo chiede perché vuole capire se può spendere di più in babysitter, o in cleaning, stiamo nella merda ragazzi, al momento sono andato qui, io sto lavorando di più, sono più assente da casa, e c'è bisogno di aiuto, quindi vogliamo riprendere a farlo, spending review, però ecco, perché no? Come la gestisci, cosa vuol dire? Vai lì, ti guardi i dati, guardi l'andamento negli ultimi 12 mesi, e giudichi categoria per categoria, se quella spesa lì è sensata, se è speso troppo, se è speso poco, dai un obiettivo più ad alto livello, ti alzi e guardi e dici, comunque sto risparmiando il 30% dello stipendio, mi sembra un buon obiettivo, non c'è uno script per fare spending review, a mio avviso. Federico Stompo, grande Federico, l'ho scoperto due giorni fa, essere owner del canale, faccio cose, e... Rip, perché fai consulenze? Perché so soldi, o perché ti piace? Sarà sicuramente un mix, immagino, allora ti chiedo, cosa ti piace della consulenza? Perché ti piace? Bella domanda, buon Federico, oggi sei il Federico che fa domande più interessanti, te la ciao. Rip, perché fai consulenza? Da una parte so soldi, non ne faccio tantissime, do pochi slot, non ne faccio tantissime, non dovrebbe dire, oh se ne fai di più, fai più soldi, quindi un po' so soldi, vorrei che fossero un po' di soldi che fanno sì che, che il cash flow negativo sia meno negativo, c'è ancora un cash flow negativo, ma soprattutto nascono opportunità, la mia start up, quella che adesso è fallita, o quanto meno, ok, mi correggo, quella con cui non lavoro più, perché non so se è ancora viva, è nata dopo una consulenza, ora, hai visto che era una merda, non è detto, è stata una bellissima esperienza, per cui no, ho, le persone che mi contattano sono persone interessanti, persone anche con, c'è un certo, diciamo, come dire, con delle disponibilità, e nascono belle, nascono belle relazioni, passaparola, possono nascere, altre cose interessanti, perché no? lo faccio quindi per, intanto, sto imparando, mentre aiuto, sto imparando, come persone, gestiscono patrimoni, anche i più grandi del mio, e nel frattempo, si creano, eventuali, possibili, collaborazioni, oppure progetti, o, contatti, uno di questi, che era dirigente, in un'azienda, adesso non mi ricordo il nome, ma ha anche detto, viene a lavorare da noi, poi non si è conclusa quella cosa lì, non era mio interesse, però, però sono opportunità, un'opportunità, e questo è il problema, nel fare consulenze, non proprio, a bassissimo costo, non sono, non le faccio a 10.000 l'ora, le faccio, non a bassissimo costo, quindi, difficilmente nello studente, però viene la persona, che ha, coetaneo, con un pacco di soldi, diciamo, attiro persone, che possono creare, progetti assieme, con cui posso creare progetti assieme, ok, no dirigente di Carrefour, purtroppo Tommy, purtroppo, senti, a pezzo di merda, io vengo da Fiano Romano, ah, quanto, quanto lo sapevo, quanto lo sapevo, Nice Dilan, Federico Abidone, Mario Dose, Montatore Casellante, uno ci vai a cena, uno lo riempi di mazzate, e uno lo licenzi, che fai? Orca troia, orca troia, Mario Dose è grosso, mi sa, eh, Montatore Casellante, è l'unico che posso licenziare, che, eh, è complicato, è complicato, è complicato, è complicato, è complicato, è complicato, come scegliere tra SMCX, e XXSC? che sono, due etf? Sib e Mic, vediamo un po', etf, però è trovato troppo, questa domanda che ti chiede mezz'ora, amico, amico, questa è una roba, etf, uno è, X-Trackers, MSCI Europe Small Cup, e l'altro è, Spider, MSCI Europe Small Cup, stesso indice, mi verrebbe da dire, cambia poco, cambia poco, cambia poco, ter 0,30, ter 0,30, vabbè, 130 milioni, cambia poco, il, ci sarà qualcosa che, io sceglierei uno dei due, dopo una profondita analisi, ma, siamo fuori dal, dai tempi, il libro di Luca Giusti, parla di portafogli dinamici, ovvero, aggiustandoli, con un approccio, walk for world, esegue approcci diversi, minimum correlation, modelli di Markowitz, dai, non è, potrebbe non essere male, potrebbe non essere male, Luca Giusti, ne ho sentito parlare, non male, da amici, però, ho visto qualche presentazione, dei corsi di trading, e sono, poi dicono, nel mondo del trading, è tra i più bravi, però, è trading, non ci piace, non ci piace, ok, non era una trappola, tocca riproporre la domanda, correggimi cosa sbagliato, quanto ha senso, passare da ETF, ad accumulo, a distribuzione, a usare i dividendi, come income, quando, ha senso, passare da, ETF, ad accumulo, a distribuzione, se ti rendi come income, se ti serve un income, non ha senso mai, puoi tenerti di ETF, ad accumulo, e vendere pezzi di quote, quindi, non è che c'è un momento, per cui, tu passi da un ETF, ad accumulo, a un ETF, a distribuzione, per scelta strategica, è soltanto, che stai dicendo, al tuo portfolio, invece di reinvestire i dividendi, me li prendo io, oppure, vendo un pezzettino, del prodotto aggregato, che è la stessa cosa, magari può aver senso, a un certo punto, passare da investire in asset, che danno poco dividendo, i sottostanti, ad asset più dividendosi, però, però, molti direbbero che non ha senso, per passare da investire, da Tesla, a, non lo so, stocks, con alto dividendo, quindi, quella è una differenza strategica, che può aver senso, e, e, non, non solo accumulation, verso distribution, oh, che fatica, avevi detto, mic 888, eh, adesso ti riporto alla realtà, avevi detto, che entro le stade, 2024, avresti deciso, con tua moglie, se rimanere in Svizzera, o tornare in Italia, al momento, se non ti più, tornare in Svizzera, o restare in Svizzera, e abbiamo posticipato la decisione, al 2025, se nulla cambia, ci siamo dati due anni, da adesso, per decidere, se rimanere, o, o tornare via, e al momento, mi sento, più penso, che, eh, in questo momento, in cui, non, questo momento, particolare, dovessi scommettere, da qui a cinque anni, forse scommetterei un cipino in più, che torno, però, forse sto sottovalutando, la mia, il mio senso di responsabilità, e la mia pigrizia, di trasloco, però, se no, dovessi, scommettere, scommetterei un cipino in più, che torno in Italia, che è la brutta notizia, vuol dire che, che non, che l'attività, non è così sostenibile, montatore casellante, rip, lo sai che se mi licenzi, qua casca tutto il castello di carte, sì, eh, ma hanno, ti hanno chiesto, chi licenziavo, Mario Dose, non è che lo c'è, non è che, che te manco accendi la telecamera, senza spostarla, semmai ti licenzio io, ci sta, ci sta, che cuffie uso di soldo, qui flex, flexino, cuffie che non esistono per voi, poveracci, sono cuffie di Google, che ci davano come dipendenti, che però, non erano da restituire, a fine, a fine mandato, matoxi, microscope e denner, uno ci va a cena, uno ci fa a botte, e l'altro ci va a letto, e in quale faccio dei selfie, con l'epicuro in sconto, stiamo per finire, volevo fare la reaction, ma non la faremo, non la faremo, peccato perché, peccato perché era una roba, peccato perché era una roba, ultime due domande, Federico Stompo, chiede, Rip, posticipando, non hai paura che le bimbe, pur non avendo alcun potere decisionale, possano prenderla male? Sì, più andiamo avanti, più la spinta a rimanere diventa forte, dal punto di vista emotivo, però da qui a due, infatti l'estate prossima era l'ideale, perché mia figlia grande, finiva le scuole, finiva il kindergarten, e avrebbe dovuto iniziare le scuole elementari, e quindi era un buon momento per prendere decisioni, ora, non è detto che quel momento non si presenti lo stesso, se quest'anno non riesco a fare quello che voglio, non riesco a finire di, a lanciare il mio corso, non riesco, o le cose vanno male economicamente, il mio sponsor principale, scappa, non faccio soldi, può darsi pure che, dopo un anno, l'esperimento chiude, non dobbiamo per forza arrivare a fine due anni, è improbabile, penso che, penso che due anni di esperimento, ce li diamo tutti quanti, e fra due anni, mia figlia più grande, avrà sette anni, e sarà ancora dolorosino, ma fattibile spostarci, se passano altri tre anni, e la grande ha dieci anni, e le piccole ne hanno sei, dopo diventa molto difficile, dopo si va via solo se le condizioni economiche sono del tipo, o non trovo lavoro, o cazzo facciamo, ce ne possiamo star qui per la gloria, affinché ci sarà un'opzione del tipo, mi cerco un lavoro, in Svizzera, non ce ne andremo dalla Svizzera, superati due o tre anni da adesso, quindi due anni, si decide, via. Ultima domanda, mi risponderà, mi risponderà, Allora, Federico, una sfida tra i feri Federichi, una sfida tra i Federichi, incredibile, ma come sta andando la scrittura del corso, è già iniziato a fare qualcosa, sei a zero, come fai a lanciarlo per Capodanno? Ce la fai a lanciarlo per Capodanno, con la maratona per i 100k? caro Federico Bde, sicuramente no, non lancio il corso per la maratona dei 100k, ci sarà, vogliamo fare una maratona dei 100k iscritti su YouTube, questo è vero, e su YouTube dovrebbe accadere tra fine dicembre o gennaio, dovrei superare 100.000 iscritti su YouTube, se continuiamo così, e volevo fare una maratona, volevo fare una maratona, vediamo quanto ne esisto, maratona del 50enne, quindi tipo 4 ore e poi finisco, e era carino forse fare un lancio in quel momento, grazie Spad Hs, non farò il lancio del corso, no il corso uscirà ad aprile, ma c'è un però, c'è un però, c'è un però, due ore fa ho incontrato una persona, vedete queste cose, tipo queste sinergie, e c'è la possibilità, no non diciamo troppo, non diciamo troppo, c'è la possibilità che nasca qualcosa di più figo prima, quindi vi terrò aggiornati, grazie Spad Hs, stiamo per niente corso a capodanno, siamo a Maratona su YouTube, e con tanto merch, esatto, c'è anche quell'idea, state tornati, state tornati, il corso sarà su Personal Finance, from zero to hero, target chi ne sa poco, ma secondo me, anche chi ne sa abbastanza, troverà valore, ora, la live sta finendo, non ho incontrato Big Luca, e torniamo fra due minuti, chiudo OBS, torniamo fra due minuti, con Tommy, con il tablerone, state qua, state qua, ragazzi, non ve ne andate, non ve ne andate, quindi vi saluto, ma torniamo subito, state tornati, state tornati, conta fino a cinque, cinque, quattro, tre, due, uno, e non ve ne andate,